Con Marco Giovenale di Exargo, uno dei partecipanti al seminario L'economia della poesia a Roma, Casa dello scrittore, giovedì 28 ottobre 2021. Bentrovato! Grazie Federico di questa nuova ospitalità. Partiamo dalla realtà Exargo, per raccontare a chi ci ascolta. È una sorta di gruppo informale nato più di dieci anni fa, che poi ha avuto varie trasformazioni, movimenti interni nel tempo, a cui in effetti mi sento di partecipare come organizzatore nel tempo di tante iniziative, soprattutto legate alla poesia, alla scrittura, anche alla proposta di realtà, e in particolare con un'impinazione più accentuata verso la presentazione letteraria, anche se per un tempo di molto altro, anche se ci siamo occupati. Non è precisamente Exargo a organizzare questo seminario, ma io sono come persona ben vicina a conoscenza dell'attività invece dell'organizzatrice, che c'è Stefano Pagliarani, con la figlia di Pagliarani. Ecco, io ho sentito effettivamente molto, molto interessante l'iniziativa, come tale mi sono premurato anche di dare una mano nell'organizzazione, anche se non sono presentatori. L'organizzazione in effetti è da riferire tutta la biblioteca Ello Pagliarani, all'Associazione Ello Pagliarani, che tra l'altro è uno dei più grandi poesi del Novecento Pagliarani, che non è più con noi, a cui è dedicato, oltre dall'Associazione della Biblioteca, anche un premio letterario che si svolge ogni anno. Quest'anno si svolgerà, se non sbaglio, verso primavera del 2022. Diverse relazioni ci saranno? Sì, ci sono interventi su molti argomenti, molto interessanti. Uno, per esempio, di Nicola Sultrini, su Economia della gratuità. Tommaso di Francesco parlerà della produzione materiale dei versi. Anna Lapenna Malerba farà una sua annotazione sullo scrivere, anche senza editori. Giulio Mazzaglioli parlerà di un'iniziativa che è nata nel 2013, che si avviene con le difficoltà e i pregi, invece, di organizzare materiali che sono di fatto difficili distribuzioni, difficili edizioni, ma che comunque questa, che non è una casa edizione, ma una collana, riesce comunque spesso a tradurre, perché spesso si tratta di materiali traduzzi. Poi Marco Menato parlerà della poesia in biblioteca, facendo riferimento anche al diritto d'attore, molto, molto interessante. E Laura Pugno affronterà il tema della poesia come terzo paesaggio, anche riferimento a un suo relativamente recente libro di saggi. Ci sono anche molti altri autori, Umberto Obertone, Acquamore, e Alessandro Canziana parlerà della contraddizione, la poesia non è la contraddizione di un prodotto che, in fondo, nella società, forse non soltanto nella società contemporanea, che è passato, è considerato invendibile, molti toni tempi in campo. A proposito di invendibilità della poesia, stavo pensando invece ad alcuni casi che sono riusciti nell'intento. Qualche tempo fa, intervista ai Guido Catalano, che si è fatto portatore di una poesia performativa, ad esempio. Sì, ci sono molti canali, modi, interpretazioni anche di cosa può essere la poesiana contemporaneità. C'è un versante che, bene, lavora molto sul fronte dell'oralità, quindi dell'esecuzione del testo, addirittura della produzione, delle invenzioni del testo anche in termini di improvvisazione, in alcuni casi. C'è chi invece ancora fa riferimento alla pagina scritta, spesso non soltanto in rete, anzi quasi per nulla in rete, rilegge invece la pagina scritta, la pagina organizzata purtroppo pianamente. E si spera che per tutti ci sia un futuro, in un mercato non sempre favorevole. Tu come lo vedi l'abbinamento economia e poesia? Sicuramente pertinente, per cui fa che un po' mi interessavo da subito quando Cetta Petrolo mi ha voluto gentilmente invitare, perché in qualche maniera c'è una prossimità di fondo tra economia ed esternica, cioè il mondo appunto di ciò che produce senso e ciò che produce valore. Sono due mondi che in qualche maniera condividono anche dei termini, il produrre, il produrre senso, il produrre valore, il valore, il valore aggiunto. Ci sono delle affinità e l'unica cosa che chiaramente le distingue è che nel campo dell'economia la matematica l'ha fatta padrone, mentre la cosa bella della poesia che ha fatto da padrone è la gratuità, perché parte del titolo appunto dell'intervento di Puttrini, Economia della gratuità, una sorta di ossimono. Tra l'altro venite da un momento performativo all'alba nel Museo di Villa Borghese, se non sbaglio. Sì, in questo momento in cui parliamo, io sono appena tornato da una bellissima iniziativa organizzata da Silvia Breh e appunto Puttrini, in cui nel Museo di Valle Giulia, 20, anche forse 21, non posso sbagliare ogni numero, autori hanno letto, dando in qualche maniera il buongiorno al sole che stava arrivando, attraverso brevissime poesie che ciascuno ha voluto leggere. È stato, oltre a un luogo bellissimo che ci ospitava, anche una bellissima occasione per ascoltare voci completamente diverse l'una dall'altra e anche per spostare un po' l'asse temporale delle nostre abitudini. Siamo spesso abituati a fare letture o incontrarci per questioni di letteratura, la sera, il pomeriggio, e non era ancora mai successo che i miglia di lettura ci inaugurassero una giornata in questo mondo, quindi molto bello. Tra l'altro è stata una lettura molto frequentata, molto pubblica, non è raccontato alle 6 di mattina. Ecco, in questo senso la poesia come rito collettivo pubblico non è così frequente e in questo caso mi sembra che abbia avuto un certo riscontro. Sì, oggettivamente era funzionato, è stato anche incurato, con grande attenzione, questo tra l'altro era ospitato all'interno di una mostra di Oreste Baldini che c'è lì al Museo Nazionale Etrusco a Villa Giulia e quindi c'era anche un legame con l'arte contemporanea e questa cosa del legame dei possibili interciri codici, quindi testualità e altri codici, secondo me è una delle carte vincenti per tornare a trasmettere in maniera orizzontale quanto più possibile la poesia. Ci dai tutti i riferimenti web per l'evento, ma non solo, anche per le attività? Sicuramente cercando su Facebook la pagina della biblioteca Elio Pagliarani si trovano tutte le iniziative realtà che poi la biblioteca e l'associazione organizzano e sono non poche e forse partendo da lì si può trovare tutto. Alcune cose non è facile darle perché effettivamente l'indirissima che sono complicati, però un'altra pagina che può essere utile è quella del FUIS che è la federazione unitaria italiana scrittori che ospita a lungo teore dei Mellini appunto il 28, a partire dal 16.30 questo incontro. Quindi cercando su fuis.it oppure su bibliotecaelio pagliarani.com si trovano sicuramente delle informazioni, ma anche attraverso Google e attraverso anche Facebook appunto. Il seminario L'economia della poesia a Roma, Casa dello scrittore, giovedì 28 ottobre 2021. Salute e un ringraziamento a Marco Giovenale di Exargo, uno dei partecipanti. A presto! Grazie a voi. A presto Federico, grazie ancora.